Tutta l'Austria ha celebrato le feste commemorative in onore del monaco Marco Daviano, eroe nazionale al cui zelo e vigore si deve in gran parte se i 250 anni or sono vennero respinti i turchi che minacciavano invadere Vienna. Per l'occasione la celebre croce che il monaco portava quando condusse i soldati alla vittoria è stata ritirata dal monastero jugoslavo che la conserva per essere trasportata processionalmente attraverso il Danubio fino a Vienna dove sarà esposta nella cattedrale di Santo Stefano. Grazie a tutti.